scherzo molto divertente quello che il trio medusa avrebbe deciso di giocare nei confronti di linus il famoso conduttore radiofonico di radio dj io lo considero lino su un uomo davvero tutto d'un pezzo ma molto bravo molto in gamba molto professionale nel modo di lavorare e questo penso che sia un dato di fatto che verrà considerato come vero dai più ecco in questo scherzo abbiamo ripeto vittima il buon linus che ovviamente rimane colpito da quello che avviene adesso vi racconterò brevemente il servizio in questo momento scherzo per poi fornire una mia opinione in buona sostanza la legge del contrappasso avrebbe colpito proprio linus gianfranco così stanco di sentire infatti i fatti di linus ogni giorno alla radio ricordo che lavora radio dj di nuovo avrebbe deciso di andarla a ripagare con la stessa medaglia durante la maratona di roma e probabilmente gianfranco si sarebbe servito proprio del trio medusa vi ricordo che il trio medusa sono tre simpatici uomini che ho conosciuto dal vivo nel 2008 e nel 2009 proprio a radio dj e sono giorgio maria daviddi fuori corsetti e gabrile corsi e proprio costoro vanno a fare lo scherzo nei confronti del buon linus conduttore di radio dj vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi commentare e un caro saluto al prossimo video da Nero di Italia